Un dialogo artistico costante, rinnovato, corale, fisico, fatto di danza, musica, fotografia, scultura e cinematografia. Una grande installazione, un'opera aperta, circolare e infinita. Tutto questo è Jabroul Dance Déjou, Gebru. L'installazione in programma al madre, tra Napoli e Parigi, corpi senza sosta, in movimento, che si danno le spalle nel momento del confronto, che si trovano tra gli elementi del tempo, cercando le persone che amano, per poi non trovarle mai. L'obiettivo drammaturgico della ricerca è raccontare la relazione tra due persone, partendo dalla coppia del film Paris-Texas di Wim Wenders, come sottolinea la regista Alessia Siniscalchi. Ogni spettatore si potrà identificare in una delle storie, perché ognuno di noi vive con l'amore un rapporto diverso. Abbiamo cercato di attraversare quattro fasi diverse di una storia d'amore, quella più passionale e bruciante, quella più giovane e più fresca, che magari qualcuno di noi ha perso velocemente, e quella invece più della tristezza di una coppia finita, che non riesce proprio più a dirsi niente.